Federico Asta, conosciuto come il pasticcere dei VIP, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Casteldebole, Bologna, lungoviale Gaetano Salvemini. Il 34enne era alla guida del suo scooter quando si è scontrato con un SUV. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati pubblicati sui social, provenienti da amici, conoscenti e follower che nel tempo hanno seguito il suo straordinario lavoro e la sua connessione con le celebrità che lo hanno reso famoso. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno scelto le sue creazioni figurano nomi di grande rilievo. Francesco Totti, Cristian De Sica, Alessandro Del Piero, Checco Zalone, Beppe Signori, Lazza, Bobo Vieri, Massimo Boldi, Luciana Littizzetto, Fiorello e Cristina D'Avena. Le sue pagine social sono piene di foto che lo ritraggono con queste star, testimoniando l'affetto e la stima che avevano per lui. Federico si era specializzato nella preparazione di dolci per eventi di grande portata, 3A, cui concerti di artisti italiani e internazionali, e aveva avuto l'onore di realizzare la torta per la nazionale italiana di calcio, oltre che per il Papa durante la visita a Bologna nel 2017. Conosciuto anche per la sua generosità, Asta spesso donava dolci e pizze per ringraziare o omaggiare varie iniziative. Durante la pandemia si era preso cura del personale sanitario offrendo dolci e di recente aveva espresso il desiderio di regalare bomboloni e pizze ai volontari impegnati nell'emergenza alluvionale a Bologna. La presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli, ha ricordato con affetto la sua proposta, esprimendo gratitudine per il supporto che Federico aveva offerto nel corso degli anni. Entrato a lavorare nel panificio di famiglia a soli 15 anni, Federico era profondamente legato alla sua attività in via Battindarno, definendola «la sua casa», in un post del 2021, dove parlava della sua passione per il lavoro e del potere dei sogni. Lascia la moglie Giorgia e i figli Nicole e Alessandro, rispettivamente di 9 e 5 anni. E tu cosa ne pensi della notizia? Lascia un like, un commento. Grazie.